Amici da Tactical Raiders, siamo al campo di tiro di Zevio con il nostro amico Roberto, abbiamo fatto un'uscita outdoor dalla fiera EOS di Verona e ci presenterà questa nuova Beretta 92X Performance Optic Raiders. Bene, poco di nuovo, la struttura è la stessa della performance normale, ha due scassi sul carrello prelevati dall'impianto della Defensive che la trasformano in Optic Raiders, quindi qua con la sola aggiunta della della sua piastrina che non è compresa nell'arma quando viene venduta, ma è venduta a parte in quanto ognuno prende la piastrina correlata all'ottica che poi intende montare, viene montata l'ottica senza toccare le mire presenti sull'arma. Questa è una caratteristica importante perché nel momento in cui io dovesse stancarmi di utilizzare l'ottica mi basta toglierla e non mi cambiano le tarature dell'arma, quindi posso tranquillamente tornare a sparare in production o in standard se voglio partire in singola. L'arma la conosciamo e penso che... L'apprezziamo! Il passo è quello che è stato fatto e per adesso è questo. Come sempre noi però dobbiamo far cantare le macchine che abbiamo fra le mani quindi ci darà come sempre un'esibizione della sua arte. Buon! Grazie mille ancora una volta! Grazie a voi! Grazie a tutti! Grazie a tutti!